Una svolta senza precedenti Salvatore Parolisi, l'uomo precedentemente condannato per l'omicidio della moglie, ha trascorso già 12 anni dietro le sbarre. Tuttavia, i suoi guai non sembrano essere finiti, poiché una recente decisione del magistrato di sorveglianza Rosanna Calzolari ha sollevato ulteriori problemi per lui. Le parole che hanno indignato la famiglia della vittima durante un'intervista rilasciata a chi l'ha visto su Rai 3. Salvatore Parolisi ha pronunciato parole che hanno profondamente indignato la famiglia della vittima. Secondo quanto riportato dall'Ego.it, queste dichiarazioni hanno portato alla revoca di 15 permessi che gli erano stati concessi. Nell'intervista, l'ex militare ha affermato con fermezza di essere stato ingiustamente condannato per l'omicidio di sua moglie Melania. Questa negazione dell'accusa ha scatenato una forte reazione nel Tribunale di Sorveglianza, che ha preso seriamente in considerazione le parole di Parolisi. L'incomprensione della condanna e il disprezzo per il processo di reinserimento secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Le parole di Salvatore Parolisi sono state interpretate come un chiaro segno della sua mancata comprensione del significato della condanna e del processo di reinserimento sociale. La sua negazione dell'omicidio e il modo in cui ha sminuito la figura della sua defunta moglie hanno sollevato preoccupazioni sul suo reale pentimento e sulla sua volontà di reintegrarsi nella società. Le parole di Parolisi non sono passate inosservate. Il Tribunale di Sorveglianza, presieduto da Giovanna Di Rosa, ha ritenuto che la gravità delle sue affermazioni e la mancanza di consapevolezza da parte dell'imputato richiedessero una risposta immediata. Di conseguenza, tutti i 15 permessi che gli erano stati concessi per trascorrere 12 ore fuori dal carcere fino a ottobre sono stati revocati. La revoca dei permessi da parte del Tribunale ha lo scopo di stimolare una riflessione approfondita da parte di Salvatore Parolisi. Il suo atteggiamento nei confronti della sua condanna e della figura della sua moglie è stato giudicato preoccupante e indica una mancanza di comprensione della gravità dei suoi atti. Il Tribunale spera che questa decisione lo spinga a riflettere sulle conseguenze delle sue azioni e sulle implicazioni della sua negazione dell'accusa di omicidio. Salvatore Parolisi si trova di fronte a un nuovo capitolo nella sua storia legale. Dopo 12 anni di silenzio, le sue dichiarazioni pubbliche hanno sollevato interrogativi sulla sua responsabilità e sulla sua volontà di affrontare appieno le conseguenze del suo presunto coinvolgimento nell'omicidio della moglie. Ora dovrà affrontare un periodo di profonda riflessione e confrontarsi con le conseguenze delle sue azioni mentre continua a scontare la sua pena. La reazione dell'opinione pubblica alle dichiarazioni di Salvatore Parolisi e la successiva revoca dei permessi hanno generato un'ampia reazione nell'opinione pubblica. Molti sono stati indignati dalle sue parole, considerandole una mancanza di rispetto per la vittima e la sua famiglia. Le discussioni si sono accesse sui media e sui social network, con molte persone che esprimono la loro disapprovazione nei confronti di Parolisi e sostengono la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La revoca dei permessi rappresenta un ostacolo significativo nel cammino di Salvatore Parolisi verso il reintegro nella società. I permessi concessi erano parte di un processo graduale di reinserimento che mirava a fornirgli opportunità di dimostrare di essere cambiato e pronto a vivere una vita responsabile. Tuttavia, le sue dichiarazioni hanno sollevato dubbi sul suo reale progresso e sulla sua volontà di accettare la sua colpa. Dopo la revoca dei permessi, il futuro di Salvatore Parolisi si presenta incerto. Dovrà affrontare una riflessione profonda sulle sue azioni e sulle conseguenze del suo comportamento. Il Tribunale di Sorveglianza potrebbe valutare ulteriori misure o condizioni per il suo reintegro, al fine di garantire la sicurezza della società e di favorire una vera rieducazione. La famiglia di Melania, la moglie uccisa, è stata profondamente colpita dalle dichiarazioni di Parolisi e dalla revoca dei permessi. Questo evento riapre vecchie ferite e aggiunge ulteriore dolore e frustrazione a un processo che ha già causato loro immenso dolore. La decisione del Tribunale di Sorveglianza viene vista come un segnale di sostegno per la famiglia, riaffermando l'importanza di giustizia e responsabilità. Il caso di Salvatore Parolisi e l'omicidio di sua moglie Melania rimangono al centro dell'attenzione pubblica. Le sue parole e la revoca dei permessi rappresentano solo un capitolo aggiuntivo in una storia complessa e dolorosa. L'evolversi della situazione sarà seguito attentamente dalla società e dai media, nella speranza di una giustizia adeguata e di un processo di reintegrazione che sia rispettoso delle vittime e delle loro famiglie. Grazie per il tuo supporto.